Piatto britto, ci puoi dare un piatto britto? Sì E fa male la lavar Lì va a te Amici, amici Oggi faremo un tutorial di cucina Su come cucinare la pasta con i funghi Per prima cosa dovremmo dotarci di un coltello Per aprire la nostra scatola Aroma spezzato Allora, come si tagliano i funghi, amici? Aggiustiamo la nostra inquadratura Come dicevo, amici, passiamo al taglio Del nostro fungo Che è molto semplice Andavano lavati prima, vero, mamma? Sì Non l'ho fatto Non li laviamo noi, i funghi, ragazzi Dio, ma dopo ti ho detto Il piatto, amici, dovrà essere Non lo so Una cosa molto importante, amici È il movimento che si fa Durante il taglio Del fungo Nel frattempo, amici Che i nostri funghi Si asciugano Andiamo a preparare la pentola Andremo, amici A versare dell'olio extravergine di oliva All'interno della nostra padella Ah, dimenticavo l'aglio, amici Ecco qui il nostro aglio, amici E lo buttiamo intero All'interno della padella Un poco . . . . . . . . . la nostra pasta è pronta e adesso andremo a scolare nella nostra padella che avevo precedentemente acceso mi vado bene? ok grazie mamma è la mia assistente cameraman butteremo la pasta nel nostro recipiente dove precedentemente avevamo scaldato i nostri funghi butteremo un po' di acqua di cottura conservata appositamente bisogna avere un po' di pozzo per fare questa cosa è pronta la nostra pasta amici adesso la andremo a impiattare bene amici per oggi è tutto e io vi auguro un buon proseguimento al prossimo tutorial abbiamo la mia passaggia di stringere fa schiuma ma non è un sapone fa schiuma ma non è un sapone che cos'è la barra